Sananda. Conosciamo le difficoltà. Cari figli e figlie del pianeta Terra. Sono Sananda. Ancora una volta posso essere qui con te e sapere che nel mio cuore ci sono ogni giorno. Anche se non porto messaggi, anche se non dimostro con le mie parole tutti gli insegnamenti che ho, sono sempre con voi, nei vostri cuori. Aggrappatevi alla luce, siate luce, non lasciatevi trasportare da sentimenti piccoli e meschini. All'interno della terza dimensione, sappiamo che non è facile per voi emanare luce continuamente, perché compaiono continuamente problemi, battute d'arresto, insoddisfazioni. Sfortunatamente non c'è modo per voi di evitarlo, perché molti fanno parte del grande processo che si è creato attorno a voi. Devi avere una mente molto forte, molto centrata, molto concentrata su ciò che vuoi mantenere. Sappiamo che non è facile. Che i tuoi compiti mondani spesso ti portano fuori dal percorso verso la tranquillità. La routine ti pesa molto sulla schiena. La ripetizione quotidiana delle stesse cose, degli stessi interessi, ti fa sentire scoraggiato, completamente, spesso perso nel contesto. Sappiamo che tenere alti i pensieri, mantenere alta la vibrazione, non è un processo facile, perché l'ambiente non aiuta. Le lezioni non aiutano. Quelli intorno non aiutano. E c'è sempre quel momento in cui vorresti mollare tutto, rinunciare a tutto, perché il viaggio non è facile. Sì, figli miei, siamo pienamente consapevoli di tutto. Molti pensano che non sappiamo quanto sia difficile vivere dove sei. Vorrei solo che ricordassi che anche molti di noi hanno vissuto lì e sanno esattamente qual è il fascino di questo mondo. E molti di noi sono già lontani dalla vita terrena da molto tempo, quindi l'appello oggi è molto più grande, è molto più difficile. Lo sappiamo. Ma dobbiamo incoraggiarvi a rimanere sulla strada, perché se tutto ciò che ho detto qui vi farà scoraggiare, a rinunciare, la nostra missione sarà incompleta. Perché non è quello che vogliamo. Vogliamo essere al fianco di ognuno di voi e aiutarvi in questa impresa, in questo viaggio. Chiedi il nostro aiuto. È come se dicessimo, quasi ogni giorno. Non possiamo cambiare le tue lezioni, qualunque cosa tu debba passare, la passerai, ma possiamo, sì, alleviare un po' di quel peso, di quel malcontento, di quello scoraggiamento, di quello sta iniziando a prendere il sopravvento su di te. Molti sono stanchi. Hanno fatto un cammino lungo, un cammino difficile, di cambiamenti. Di pensieri, di paradigmi, di tutto. E in realtà ne viene poco, di conseguenza, al contrario, vedono un mondo sempre peggiore, vedono cose più difficili, un mondo in cui è più difficile vivere. Ti direi che non migliorerà. Il carico del vostro mondo non migliorerà, ora il carico di ciascuno potrà essere alleggerito. Non aspettarti cambiamenti benefici nel tuo mondo. Non per ora. Il mondo ha bisogno di, lo dico qui sotto forma di parabola, il mondo ha bisogno di affogare tutto nel marciume degli esseri umani affinché possano capire che c'è aria sopra le loro teste. Il tuo mondo ha bisogno di imparare e non sarà un momento facile. Ma lo ripeto qui e ora. Il tuo viaggio può essere più leggero. Chiedi il nostro aiuto. Non aver paura. Non pensare che ci darai fastidio. Non pensare che non ti serviremo. Ricorda sempre, non togliamo le lezioni, ma possiamo fare tutto il resto, alleggerire il peso. Mostrate percorsi che vi portino a cambiamenti, per quanto piccoli possano essere, ma che faranno la differenza, che aiuteranno ognuno di voi ad avere un po' di gioia, ad avere un po' di entusiasmo, a sapere che state avendo successo. Non scoraggiarti. Non arrenderti. Hai il nostro aiuto, basta chiedere. Non possiamo ancora rimuoverli da questo ambiente, perché dipenderà dall'evoluzione di ciascuno, dalla frequenza di ciascuno, ma possiamo, in un certo modo, modificare il loro ambiente. Aiutarti a superare i tuoi fastidi in modo più leggero, senza portarti fuori strada o farti prendere la strada sbagliata. Credimi, siamo solo a una chiamata di aiuto. Chiedi e basta. Basta non chiederci di imparare le tue lezioni, perché queste vanno apprese, ma per tutto l'arresto siamo qui per aiutarti, siamo qui per rendere questo viaggio più facile. Siamo consapevoli che non è facile, che è pesante e che hai bisogno di aiuto. Siamo molti. Chiamane uno. Chiama tutti. Chiama chi vuoi. Abbiamo tutti lo stesso scopo. E non dubitare mai. Mai. Se non fosse per l'amore che abbiamo per tutta l'umanità, tutto sarebbe molto peggio. Abbiamo fatto ciò che era possibile, senza interferire con le lezioni dell'umanità nel suo insieme. E abbiamo impedito che accadessero molte cose. Quindi fidati di noi. Chiedi il nostro aiuto, ma chiedilo con il cuore. E certamente allevieremo il peso per ciascuno di voi. 11 dicembre 2023.